i minestroni già pronti del reparto frigo sono i migliori secondo me perché anche chi ha poco tempo e non sa o non ha voglia di cucinare può preparare in pochi minuti e mangiare qualcosa di sano e veloce questo in particolare è il minestrone dell'esse lunga che va scaldato io ho scelto la preparazione in microonde va infornato dopo aver tolto la pellicola protettiva e poi bisogna scaldare il minestrone per tre minuti alla massima potenza del forno a microonde praticamente va solo scaldato e poi la cottura si ultima dopo aver mescolato il minestrone con un cucchiaio per un altro minuto di cottura sempre alla massima potenza del forno a microonde quindi in tutto deve cuocere quattro minuti questo minestrone di verdure non va condito è già gustoso e saporito di suo io non ci aggiungo nulla lo si impiatta e lo si mangia così io vi aspetto in un qualsiasi altro mio video ciao